E' stato presentato questa mattina all'interno della sala consigliare della provincia di Teramo lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo polo scolastico di via San Marino a Teramo. Presenti il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Luca Lattanzi, il dirigente dell'area tecnica Francesco Ragneri, l'assessore regionale Pietro Quaresimale, le dirigenti Maria Letizia Fatigati e Eleonora Magno, insieme ai progettisti della Merlino Progetti SRL, incaricati dello studio di fattibilità. Il giorno dopo l'apertura delle scuole la provincia presenta un progetto importante, un polo scolastico riservato non solo agli studenti ma alla comunità Teramana tutta. Sì, è un lavoro che oggi ha il primo step, il primo passaggio importante. Abbiamo iniziato fin da subito ad operarci su questo. Come consigliere dell'edilizia scolastica insieme al Presidente sono stato ricevuto dal Ministro Valditara, al quale a marzo abbiamo sottoposto la nostra idea e abbiamo avuto pieno sostegno per andare avanti con la progettazione. Quello di oggi è uno studio di fattibilità che prevede una scuola aperta alla città. È una cosa rivoluzionaria perché prevede di abbattere tre edifici scolastici, oggi in parte funzionanti, in parte no, a causa di inagibilità del marino, per risolvere un vulnus in realtà scolastico perché la mancanza di un polo scolastico tecnico su Teramo, sulla città capoluogo, è in realtà un vulnus proprio per tutto il sistema. Quello che proponiamo è una scuola inclusiva, aperta alla città, con strutture sportive fruibili da tutte le associazioni e comunque dalla cittadinanza, due palestre, campi polivalenti all'aperto, percorso jogging, percorsi yoga. Insomma, abbiamo, oltre che una scuola fatta di laboratori, di biblioteche, di auditorium e di agorà, abbiamo una vera e propria struttura in grado di soddisfare le esigenze di una città intera. La novità, se così la possiamo chiamare, è quella di un edificio dedicato alle associazioni, alle associazioni del territorio che avranno così una sede consona, adeguata e moderna rispetto alle attività che dovranno svolgere sul territorio. L'abbiamo chiamato agorà, è la piazza, è il luogo in cui ci si incontra, l'incontro della città. Chi rappresenta, meglio, se non le associazioni, lo spirito vero di impegno sociale e di impegno della città. Quindi un luogo pensato per dare una casa alle associazioni, ma per dare un posto dove potersi incontrare, discutere e far sì che la città resti viva anche dopo l'orario scolastico.